Buonasera a tutti, ringrazio il dirigente, gli alunni e le maestre. Questa è la prima uscita pubblica che faccio in una scuola e mi ha fatto piacere vedere questa rappresentazione che hanno fatto. Segno di soddisfazione da parte del corpo docente che con passione fanno il proprio lavoro e questo è stato il risultato. Quindi un grazie come genitore e un grazie anche come amministrazione perché, caro professore, l'amministrazione ci sarà particolarmente attenta a tutte le scuole e particolarmente a loro perché noi viviamo per loro, per i giovani e per i bambini e quindi noi siamo per loro. E sicuramente ci sarà la più grande attenzione di loro. Grazie a tutti.